Passiamo allo studio professionale dell'anno Fiscalità Nazionale. Il premio va a FM Group Consulenti d'Azienda per l'ampia preparazione e competenza ad alto valore aggiunto e per affiancare gli imprenditori nella gestione ordinaria e straordinaria della loro azienda per offrire al cliente i migliori strumenti di management unitamente alla valorizzazione del lato umano attraverso la costruzione di rapporti interpersonali di qualità Altro aspetto, quello dei rapporti interpersonali di qualità come abbiamo letto nella motivazione saluto il dottor Massimo Scaglioni, presidente di FM Group grazie per essere con noi e complimenti Buonasera a tutti Buonasera dottor Scaglioni stessa cosa chiedo a lei io mi sono sedita di risottolineare dopo aver letto la motivazione proprio questo aspetto, i rapporti interpersonali di qualità perché non si può prescindere da questi, giusto? Direi che è una variabile fondamentale perché ci troviamo in un contesto dove la comunicazione è la cosa più importante poi viene la tecnica e l'abilità professionale però la capacità di comunicare e di rapportarsi con le altre persone è fondamentale Esatto, senta le chiedo ovviamente un commento su questo premio è stato un momento e sarà indubbiamente un momento molto complicato per tutti non solo per l'Italia ma per il mondo intero indipendentemente dalla volontà, indipendentemente dalle strategie però è chiaro che se si cerca di mettere un plus sul tavolo magari questo momento si può affrontare in modo migliore, diversamente Sì, certamente il plus consiste nell'integrare più competenze possibili all'interno della struttura che deve essere dislocata sul territorio in modo distribuito lo studio professionale concepito come era 15 anni fa, 20 anni fa non è più attuale Noi dobbiamo essere sul territorio, vicini alle imprese ricordo che le imprese italiane per il 95% sono tutte di piccola e media dimensione quindi dobbiamo essere vicini agli imprenditori per consigliarli nel modo più veloce possibile e più profittevole possibile questo plus lo si raggiunge solo con un ampiamento della dimensione dello studio che vuol dire sostanzialmente dislocare sul territorio più sedi come stiamo facendo noi sostanzialmente noi siamo presenti in Lombardia, in Emilia Romagna, in Trentino Alto Adige in Veneto, in Friuli, in Piemonte, in Lazio per cui abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile ai nostri clienti e questa strategia sta pagando sta pagando, insomma potremmo riassumere con un mai fermarsi ancora di più in questo istante Esatto, sì sì, mai fermarsi, noi siamo sempre attivi, lavoriamo molto le ore che dedichiamo all'attività professionale sono tantissime però lo facciamo con l'entusiasmo di 30 anni fa sostanzialmente Ottimo, beh l'entusiasmo non può mai mancare quante parole importanti stiamo trovando anche questa serata io la ringrazio dottor Massimo Scaglioni, presidente di FM Group e complimenti ancora per il premio Grazie a voi, buonasera